La fase dell'emergenza vera e propria sembra essere passata dopo le terribili giornate di pioggia incessante. Le scuole resteranno però chiuse per due giorni a Catanzaro e per le vie del centro si spala il fango, si lavora come si può mentre comune, provincia e regione hanno chiesto lo stato di calamità naturale. I danni non sono stati ancora calcolati ma si parla di qualche decina di milioni di euro. Le principali criticità riguardano l'intera area di Santa Maria, il quartiere Sala, via Corrado Alvaro, l'intera zona di Iannò già interessata in passato da diverse frane e l'area di Germaneto dove ci sono l'università e la sede della protezione civile. Gli abitanti si danno tutti da fare per ripulire strade e cortili ma si sentono abbandonati. Ancora siamo senza vigili, non viene nessuno qua, solo noi cerchiamo di fare qualcosa però potete vedere voi stessi come siamo messi, siamo nel fango, abbandonati da tutti, dall'istituzione abbandonati completamente. La priorità resta sempre liberare le strade più importanti perché se no, ironia della sorte, non possono arrivare neanche i soccorsi e intanto le previsioni meteo non promettono nulla di buono.